Buonasera, buonasera, due volte sai perché? Da doppiare cose buone, certe volte meglio è. Il mattino corre in bocca, poi c'è ora di mangiare, pomeriggio fai merenda e la sera arriverà. Buonasera, buonasera, due volte sai perché? Da doppiare cose buone, certe volte meglio è. Buonasera, buonasera, due volte sai perché? Da doppiare cose buone, certe volte meglio è. Bentrovati amici, inizia un'altra puntata di Buonasera Buonasera. Due volte! Cominciamo come al solito puntuali, domani ci vedrete in replica, ma la cosa più importante è che ci divertiremo per una mezz'oretta buona. Santissimo! Dai, se lo dici tu, cominciamo con la BB Band, musica! Stesi alla luce del giorno, con gli occhi annegati nel mondo, senza più malinconi. Stesi alla luce del giorno, con gli occhi, 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 con gli occhi. Non voglio vivere tutte le vite, vedere ogni posto nel mondo Vincere tutte le volte, stare sempre forte, uscire senza graffi sulla pelle Vedere ogni limite, farsi più sottile, sempre più deboli le mie paure Lasciarmi sfuggire neanche una voglia che si muove Brava la nostra baby band, ma ancora più brava è lei Con lei che riempirà i nostri studi con la sua abbondanza La bellissima e bravissima prima donna, Roberta Amato Grazie, grazie, poi mi parliamo st'abbondanza Sempre di meno, i desideri si realizzano, scusate un altro desiderio Ma dove stai andando? Sì, stai calma Buonasera, buonasera Di quella parlare Ah, di quella Come stai? Bene, mi sono ripresa Dopo essere stata con Gianluca Vacchi Vacchi, vacchi Basta, diciamo più Oggi parliamo di una cosa molto carina, caragnese Parliamo di sogni da bambino Perché non ne ha? E chi è che non ne ha da bambino? Io volevo fare il pompiere o il dottore Poi non ho fatto nessuno dei due, però Vabbè, pazienza L'importante era sognare Io la giornalista E in me hai coronato il tuo sogno Brava Oggi vi chiediamo Ma voi Qual è? No Ma qual è? Qual è il vostro desiderio? Per esempio Io volevo fare il sex symbol E ci sono riuscite pure Hai toffato con me Voglio una vita Spericolata Quelli che parte e parte così Voglio una vita Che se ne frega Che se ne frega di tutto Sì Di tutti così Scusate, ho sbagliato Voglio una vita Voglio una vita Spericolata Di tutti così Eh cavolo Sei bravissimo Parliamo di sogni da bambino Perché ognuno di noi Sorgna Perché ricorda Ma non mi tocca Ricorda I musicisti E ce l'hanno fatto No, quattro amici al bar È così Perché quello Non l'è impazzito Ma non è di quattro amici al bar Che parliamo Ma parliamo di loro La nostra mission Buonasera, buonasera Come sapete I grandi cinque Cinque Quattro I fantastici quattro Noi abbiamo la mission Di incucchiare i pu Diciamolo chiaramente E quindi Loro che da bambino Che da bambini Avevano il sogno Di diventare musicisti Ce l'hanno fatta Tutti insieme Perché poi Presi singolarmente Diciamocela tutta Sono veramente 0, 5, 1 11, 11 La nostra mission L'hanno scorso Buonasera Buonasera Due volte È nata per questo E da piccoli Loro cosa sognavano di fare? Chi suonava? Già da piccolo Tipo Camillo Ferdinando Già da piccolo E camillo Ferdinando Camillo Ferdinando Camillo Ferdinando Facchinetti Che nasce a Castino In provincia di Bergamo Il primo maggio del 1945 Già da piccolo Suonava Queste velleità E questi talenti Cosa suonava? L'arpa? No, no Il piano L'armonica La fisarmonica Per l'epoca Si usava la fisarmonica Non fare gesti Stai calmo Lui fin da piccolo Sulle onde di Puccini Suonava Sognava di suonare anche Poi un altro piccolo Che aveva voglia Di suonare E' stato Bruno Vabbè Canziani E come no Bruno Guarda Ce l'abbiamo qua Che sogno aveva Lui il diplomato ragioniere Il diplomato ne faceva ben poco Perché il suo sogno era quello Canziani Facciamo quadrare la cassa Esatto Ecco Con la cassa armonica E così Così Vengono i caffè Parma e mire E presto che perdo il tram Vabbè Fantozzi Ecco ragioniere Ragioniere Ugo E poi chi c'era Donato A tutti Loro che hanno coltivato Più di 50 anni fa Degli agricoltori Bravi Bravi Poi alla fine ci sono riusciti E loro sono arrivati in vetta Sì Tra l'altro Prossimamente ti parlerò Di un'intervista Perché forse forse ci siamo Forse 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 Italiano perfetto Forse forse ci siamo Quindi continuate a scrivere Mandate i fax Abbiamo attivato la linea Perché abbiamo cambiato lo studio Il tempo che cambiamo nel gestore Bu 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 Ti buchiamo i bu Una cosa molto importante È anche ricordare I contatti che sono Non solo il canale 11 E 511 Ma i social Certo La nostra pagina Facebook Buonasera buonasera E su Instagram Buonasera buonasera Due volte Due volte mi raccomando Oggi ho una cosa un po' scollata Perché ho perso 100 grammi Quindi voglio fare vedere La linea che divide Il pettorale destro Dal pettorale sinistro Ecco Vabbè Ciao Stavo guardando nel frattempo Se io ero a posto Tutto a posto C'è una cosa importante da dire Che prima di noi Ci lasciano la linea Due amiche eccezionali Che sono Sara Don Suso Ed Alessandra Bonaccorsi Con il loro App Sicilia Grandissimo programma Al quale sono stato ospite Insieme a tutti voi Tra l'altro Con un video molto bello Li seguo ogni giorno Però purtroppo Devo perdermi L'ultimo quarto d'ora Perché ci prepariamo Ci facciamo belli Ciao Sara Ciao Alessandra Bonaccorsi Amiche mie Sì Sì Sono amiche Sì Sì Certo sì C'è un'altra persona Che farà parte dello staff Di Buonasera Buonasera Quest'anno E si chiama Cristina Zerbo Per gli amici Dottoressa Cristina Zerbo Ci parla di un sacco di cose Sei contenta? Un'altra bionta Vieni Cristina Applauso Alla Dottoressa Zerbo Buonasera Buonasera Ecco brava Due volte Vieni raggiungimi Dove dove Cosa devo guardare? Devi guardare quella telecamera Ah ok guardo io Ecco perché siamo in tv Le materisate Come stai? Bene Posso ballare in questa trasmissione? No non puoi ballare Noi ci siamo trovati per la prima volta No non è vero Per la prima volta insieme in radio E poi già su Video Mediterraneo Con il programma di Giuseppe Castiglia Alla Catalla E adesso ci ritroviamo qui a parlare Di quello che ti piace tantissimo Cioè il mondo Il mondo degli animali Ma per forza Il mondo degli animali Certo Non mi chiedi qual era il mio sogno da bambina Qual era il tuo sogno? Avere un cane E ce l'hai? Tre Tre cani? Un'encilopedia Brava La dottoressa è brava Cioè hai tre cani Sì ho realizzato il mio sogno Siamo contenti Ce l'abbiamo una canzone sui cani? E lo spank Il mio papà E lo spank L'ha preso il mare Tutte canzoni allegrissime Dai Siamo amici Io e te Finalmente stiamo ampliando la presenza femminile Ma certo Prego prego Accomodati al nostro tavolino Siamo in mezzo alla strada Perché cammina come se fosse un binario? C'ha paura C'ha paura E' un granchio Perché puoi camminare agevolmente? Perché è la dottoressa degli animali Quindi magari Ci sono i coccodrini Ed un orangotango Ma attenzione Attenzione perché Gian Birtone Insieme a Giovanni Cassisi Sono andati a citofonare Tutti i citofoni disponibili In mezzo alla città Non rispondete Non fatelo Non fatelo Anzi Gettate l'olio caldo Dai balconi Sentite qualcuno che canta Olio caldo Tranquilli Video Buonasera Buonasera Due volte Sai per me Ma che Non ci arrivo Non ci arrivo Ma che fai Fermati Mangia la strada Il motore E la radio Riempie le ore Dobbiamo scendere Piano piano Andare porta per porta Che come quelli che vendono Enciclopedie Io lo stampo Mi fanno male le gambe E ho capito Ma poi come io la suoni Ma la chita Andiamo 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 Visto che ti ho portato Alla fine Tu non vorrei mangiare No guardi Non mi farei Come no No Andiamo Giovanni Andiamo Dai 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 Grazie signora Buonasera Buonasera Due volte Sai per me Bravi si fa per dire Però insomma Continuano il loro operato Disturbando Qua e là Però sono simpatici Siete Due simpatiche macchiette Bud Spencer E Montalbano Quella sì Invece è il momento Della nostra prima donna Perché lei si è calata Nel personaggio Del bambino Che vuole diventare adulto E ha appartorito Il suo capolavoro di oggi Ciao Roby Di che ci parli? Buonasera Buonasera Due volte Mi viene scontata Non lo fa nessuno Non lo fa nessuno insieme a te Va bene Va bene Se ne è andata a Piccirid E vina a Dottoressa Va bene Ma no Queste sono delle piccole Scusami Ivana Magia Magia Bene Perché mi parlo Come come Tutte noi Vogliamo diventare Delle principesse Vero Il sogno di ogni bambina È questo I sogni Ci sono desideri Di felice Cenerentola Cenerentola C'era una volta Una bella ragazza Figlia di un ricco possidente Signor Zappulla Detto Pippo Lumia Questa è la vera storia Di Cenerentola Non è proprio così Ambientata a Padernò Cip e cip Per via dei suoi enormi Salutiamo gli amici di Padernò Che non parlano così Carabinieri Allora per via dei suoi Enormi terreni Appunto di Lumia Pippo Lumia E aveva una figlia La ragazza Insieme a Graziella Per gli amici grassi Che trascorre la sua vita Serena Fino a quando Alla morte della madre È costretta a dividere La sua casa Con la nuova moglie Del padre Che è chiullare la motti E si chiama E si chiama La signora Anzina Che porta con sé Le sue due figlie Etanasia E Genoversa Genoversa La matrigna Le sovillastre Si rivelano Fin da subito C'è male femmine Sì Famili E adesso Sono la ragazza In tutti i modi possibili Una volta arrivata Bessano Bessano Arrivate in casa Cominciano a dettare leggi Tu 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 Divolgendosi aggressi Ora ti cucchino Pagliarolo Pagliarolo C'è nel letto Del giaciglio Di Paglia Esatto Da qui appunto Pagliarola E ce ne rentano Dolenta bandecchina Che i materazzi In lattice E li cucchiamo Io e i miei figli La matrigna Com'era Com'era Brutta Un messo Franna Mazzamaura E Donatella Versace Tutta arrappata Oggi Dove te la Versace Oggi Perché ci cascono arichi Tutta arrappata Ti capito Inzivati E le tue figlie Non erano da meno Andiamo a conoscerle Andiamo Sprego Contributo Attanasia Ero chiamata Scazzubula Perché Perché Mi sa La 130 kg Splendida Regina 120 No 1,20 m Per 3 Di larghezza Di un'artice seriale Di mafaldine Calde con la mortetella Capito Che Supera Qua c'è Sopracciglia La Bebe Bergomi A Spagna 82 Sempre inzivate Con le magliette sporche Di sugo A Topoli Mentre Genovesa Era più finicchia Ah bene Carina Almeno una carina Colorito Che in confronto Termalmeda Appare in magrebino Prego Continua E vabbè Una spalla A spalle Quando una cascia Una è più alta Una è più bassa Ah il l'aria E più l'aria L'italoncine E Gressi invece com'è Gressi è bella Magia Magia di Gressi Perfetto E quando passa per Paternò Sua città natale C'è beccia Ce ne abbiamo un arpeggio di Gressi Che passeggia per Paternò Un arpeggio Gressi Gressi cammina per la strada Senza nemmeno Guardare per te Tutti si girano E ognuno la corteggia Come vuoi Ehi Aghietto ma La reggina dei sogni E c'è beccia Più educatina no? Ma Come continua Ve lo raccontiamo dopo Ah quindi il primo tempo C'è che Brava Roberta Amato Bravissima Bravissima come al solito E invece Passiamo da una donna Ad un'altra C'è la nostra Ivana Che non è soltanto con lei Che ci parla di Capito Di musica Ci canta e fa Che canta Ma fa degli studi Perché lei È una pedagogista È una pedagoga È una studiosa Di che ci parli oggi Ivana? Vieni raggiungici Raggiungici Prego Ivana Perché Ivana Sui sogni da bambino Si è fatto uno studio Che ti sei andata a studiare Assolutamente sì Perché fondamentalmente Quando si parla di sogni Tutti si basano un po' sul lavoro Per esempio Roberto Benigni Sognava di diventare papa Wow Mentre il papa Sognava di diventare Un macellaio Pensavo Un macellaio Un macellaio C'è una motivazione ben precisa Perché le carni argentine Sono buone Sono quelle migliori Col pepe verde Buone No perché Quando era piccino Andava a comprare la carne Con la sua nonna E vedeva questa figura Con questo grembiule Che prendeva da una tasca enorme Tantissimi soldi Quindi lui pensava Che il macellaio Fosse una persona Ricchissima E beh E beh Diciamo Che si stanno lavorando Poi è diventato papa Ma c'è il lato Ma beh Sì Però Però è un gesuita Quindi a lui I soldi non interessano tanto Oggi Da bambino magari Collegava questa cosa Gli interessava un po' di più E molto spesso Le persone Soprattutto a cui ho chiesto Ma da piccolo Cosa sognavo di fare Mi hanno risposto Che appunto Loro pensavano Immaginavano di diventare Un calciatore Un dottore Insomma Una figura professionale Ma in verità I sogni Riguardano molti aspetti Della nostra vita Cioè La famiglia Gli hobby L'amore Tutto ciò che riguarda Varie spere Quando diciamo Ma tu che sogno avevi da bambino Io per esempio Prima ho risposto Il dottore O magari il pompiere Perché Ho collegato Immediatamente al lavoro Magari quel tipo di lavoro Che ha anche un'umanità Cioè Salvare le persone Però Non mi viene A primo acchitto Di rispondere Che ne so Farmi una famiglia Oppure essere felice Oppure Viaggiare tanto Non mi viene Perché? Non è così Invece C'è una strettissima Correlazione Tra quella che è La felicità E i sogni Questo perché Nel momento in cui Noi raggiungiamo un sogno Ci prefissiamo degli obiettivi Cioè Prefissiamo una meta da raggiungere E questo prende concretezza Poi nella realtà Nel momento in cui Questa meta La raggiungiamo Siamo felici Ci sentiamo vivi Quindi i sogni Si trasformano in tutto quello Che noi Per un pizzico di tempo Nel senso che Se sei uno di quelli Che chiede sempre alla vita Ti accontenti Sei soddisfatto Però dopo un po' Hai bisogno di nuovi stimoli Assolutamente sì Nuovi stimoli Nuove prospettive Ecco Perché poi la felicità È anche un pizzico noiosa No? Perché è noiosa? Dai la felicità Ma che due Ma che due Ma non è la felicità Ma si è così bello Essere triste Ma no Ma essere triste No però Felicità È un bicchiere di vino Con un panino La felicità La 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 Fini La sappiamo che La 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 Vabbè Ci vediamo il video? Ci vediamo il video? E vediamoci il video E felicità Da una sera Da una sera Due volte Sei pervenire Inestamente Sogniamo Che mi fai Il carabiniero Da principessa Da dottoressa Calciadora Da piccolo Sognavo di fare Venditore di caramello Più gli altri Siamo alla Terza generazione Perché lo faceva Mio notte Mio padre Adesso Ti realizzavo Questo sogno? No Si spera di un giorno Diventare Un economista Però bisogna sempre Credere nei sogni Certo Questo si serve Cosa sognava di fare Da grande? Io Niente Diventare cantante Una pediatra Oppure il capitano Dillo scello Altore Non sapevo cos'era Però mi piaceva Il capitano Dillo scello Il calciatore Ma sì Perché immaginavo Di poter comandare Una nave Grandissima Di solcare i mari Che ne so Era una cosa stupenda Poi alla fine invece Ho fatto il vigile urbano Buonasera Buonasera Due volte Sei perfetto Ho trovato a nonna Cercarti Ma su sempre Dove sei E mi costa Non chiamarti E tu lo sai Dici che devi star sola Se un dubbio c'è E vuoi risolverlo da te Non hai capito niente di me Ci sei tu E io mi illumino Mi agito Quando non ci sei Ma tu non vedi niente E pensi ad altro ormai Ci sei tu E io mi illumino Logico E ti rivolrei Se t'amo Se t'amo Forse Perdo Se non ti amo Però Non vinto Mai Bellissima canzone di Neck Complimenti alla BB Band Noi rientriamo Semplicemente Per parlare Di uno Di quelli che ha sognato Da bambino E che poi ce l'ha fatta Ha realizzato il proprio sogno E che sogno tra l'altro In questo sogno materialmente Poco tempo fa si è esibito Un grandissimo artista Se non sbaglio Di chi parliamo? Parliamo di Lorenzo Reina Lorenzo Reina Perfetto Che ha fatto Lorenzo Reina? Cosa sognava da bambino Da ragazzo? Lui vive a Santo Stefano di Quisquina In provincia del Reggento Sì E ha sempre percorso La strada del padre Di pastore Quindi comunque era un pastore Si occupava del suo greggio Delle sue pecore Ma aveva un'abilità grandissima Nel scolpire Nel scolpire la pietra E anche il legno Quindi si allontanò Per un periodo di tempo Alla sua figlia Per poter For sì che il suo sogno Si realizzasse Quando tornò Quando il padre stava male Promise al padre Di occuparsi del suo greggio Di pecore Ma non abbandonò il suo sogno Ecco Nel senso che Poteva sposare benissimo Le due attività C'è l'attività lavorativa E poi il suo sogno Così ha creato Una fattoria didattica Sì Che è molto bella Dove si insegna ai bambini Il rispetto per gli animali Oltre che prettamente A cibarli e a lavarli E anche la scultura Ecco E poi ha creato Un teatro meraviglioso Che è il teatro di Andromeda Un teatro di pietra Costruito proprio Con 108 posti Che rappresentano La costellazione di Andromeda È un luogo di incanto Dove tra l'altro Qualche mese fa Se non sbaglio Si è esibito Marco Mengoni Ho detto Ah meno male Pensavo di aver sbagliato Bravissimo Marco Mengoni Poi figurati Con quella voce magica Quella location Sotto le stelle Un'astrazione suggestiva Ma che cosa vogliamo di più Brava Agnese Che ci ha fatto Una bellissima notizia Perché mica I sogni ce li hanno Soltanto i VIP Oppure solo quelli Che sognano Di fare il calciatore Anche l'arte Può essere un sogno Assolutamente Tra l'altro Ogni 21 Del mese Ho imparato a sognare Non smetterò Ho imparato a sognare Che ero bambino Che non ero Miacchio Vabbè stiamo cantando così Ma sì Non ci incontreremo Però Giovanni Quante ne sa Ma quante ne sa Quante ne sa Ogni per esempio Equinozio Al teatro Andromeda Appunto si va tutti lì A guardare La nascita e la primavera La fine dell'inverno E la nascita E capito C'è un posto bellissimo Che appunto Celebra anche gli equinozi C'è un bellissimo posto A Tusa Dove Antonio Presti Ha fatto il bellissimo Atelier sul mare Che ha delle piramidi Ha la piramide in particolare Poi c'è anche la spirale Però adesso non ricordo C'è l'equinozio Il sostizio Insomma si festeggiano lì C'è il rito della luce Una cosa molto molto bella Che vi consiglio Di andare a cercare Adesso la ripasso Però magari insomma Voi sbirciate su internet Ci prendiamo una pausa? Dai pausa E torniamo tra pochissimo Con buonasera Buonasera Due volte Vabbè Vabbè Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Seconda parte di Buonasera Buonasera Due volte Questa volta Le ho fregati Che comincia con il nostro Carlo Savoca Ciao Carlo Come stai? Buonasera 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 Due volte Sicura la barba Sicura i capelli Ma posso sapere Quanti anni hai? Io ho 26 anni Da 8 anni Da 8 anni Da 8 anni Da 8 anni Però hai tutti i capelli Bravo Sì grazie Oggi parliamo di sogni Da bambino tu che sognavi Che sognavi Io sognavo Sognavo Vuoi sapere veramente Questo sognavo Sognavi di fare il comico Non ce l'hai fatta No No Poi ho dovuto ripiegare Sognavo di fare il mantenuto Ah Sì Bravo Ce l'ho detto a mio padre Mi ha dato le chiavi Di cosa? Della macchina? Della casettella posta Dice poi Quando arriva qualcosa Eventualmente Quella è tua Quella è tua Tu controlla Ma oggi tu ci parli di altro Oggi io vi parlo di altro Sì perché ho sfoderato Una meravigliosa cosa Perché in pratica Quello che sognano da fare I bambini qui del sud Ecco Certo ci sono sogni diversi È vero Noi del sud abbiamo sogni O dell'estremo nord africano Magari migliorare Le performance della nostra terra Portare in alto la Sicilia Rispetto al resto d'Italia Del mondo Certo Certo Esatto Sì Sì Al primo posto Per esempio Quelli del sud I ragazzi I bambini del sud Amano fare Se sei del sud E vuoi fare il calciatore Mio caro bimbo del sud Sappi che Il pranzo della domenica Non comprende Pasta al forno Carne al sugo E pasticcini Scusa Ma che consiglio è Sì lo sappiamo Ah tu dici che può essere Un'inibizione C'è Loro pensano Voglio fare il calciatore Pasta con le patate C'è La domenica Ma voglio fare la buffa Quando si dice patate La patate No Papà Non funziona così Non funziona così Quindi il sabato A grande denuncia No calciatori Se sei una bambina Una ragazzina Una ragazzina E da grande Vuoi fare la velina Sappi che Per solidarietà Al tuo uomo Quindi il calciatore Sappi che la domenica Il calciatore Non può mangiare Pasta al sugo E dolcini Non si possono mangiare Le patate Niente No Ultimo Ultimo Sì certo Se l'abbiamo Se al sud Sei qualcuno Che vuoi fare Il pastaio O il pasticcere Meglio che la domenica Chiudi Perché con questi presupposti Stacca questa musica Ma che cosa c'entra Non su dove stessi Sia al nord Che al sud Se tu le fai Il pasticcere Tu sei pazzo Questa sapeva Tu sei pazzo Come si può dire Bravo 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 Ciao Giovanni Cenerentola Concludiamo Cenerentola Concludiamo Quanti minuti ho? Un minuto Perfetto Uno Gracie Gracie Cenerentola È sempre più sola Vive Viene a sapere Che il principe Barbarello Perché di Paternò Organizza un grande party Al castello Ehi ragazzi Presto il superino Per trovare tra le ragazze Di Paternò Il principe Quello indetto dal principe È un party esclusivo Ci saranno Salute Antonio Angela Fabula Salute I tornessi di Uomini e Doni I fratelli Abagnale I fratelli Vanzini I fratelli Caramazzo Giusele Le sorelle Goggi Le sorelle Bandiera Il mago Leteres Il mago Silvia Mi dice un saluto Il Paolo Fox Ghiermo Maiotto Otto Il colonnello Giuliacci Il maestro Pino Caruso È morto? Sì purtroppo Non c'era più Il dirigente dell'orchestra Beppe Vesicchi Oh Quindi Si va alla festa No non si va alla festa Viene subito la fata La fata La fata Dammi una cucuzza Che faceva magia Ma non parla così la fata La trasforma Cucuzza e cosa E gli dice Mi raccomando Che a mezzanotte Aresti con una cucuzza Andemà Questa la tagliamo Roberta Amato Bravissima Ultima canzone di oggi E ci salutiamo Con buonasera Buonasera Ci siamo Bravi Ma che cosa Con cosa resta? Con una cucuzza Andemà Non si può dire Non si può dire Non si può dire Lanna Non si può dire Non si può dire Zitti che pagano il mio pranzo Non c'è più C'è le panchine in piazza grande Ma quando ho fame di mercanti come è, qui non c'è Ho sull'erba e molti amici intorno a me Innamorati in piazza grande Ho un po' un proguai del uomo E tutto si può scagnare un uomo Amore tuo mio, avrei bisogno di carezze Amore tuo mio, avrei bisogno di sognarti La famiglia vera e propria non ce l'ho Nella mia casa è piazza grande Chi mi crede prendo amore, amore tuo Quanto non è Per me di donne generose non ce ne è più Rubo l'amore in piazza grande Meno male che i briganti come me Qui non ce ne è più Amore tuo mio, avrei bisogno di carezze E anche io, avrei bisogno di pregare a Dio Ma la mia vita non la cambierò mai mai A modo mio, quel che sono, ho voluto io E anche io, avrei bisogno di carezze E anche io, avrei bisogno di carezze